Ciao a tutti, eccoci per l'estrazione del premio random. Ora andremo a prendere i numeri che dovremo inserire nell'intervallo su random.org. Quindi dall'1 al 47. Quindi andiamo su random.org, inseriamo 1,47 e vediamo chi è il vincitore. Uno, il primo che ci ha mandato la borsa. Chi è l'uno, chi è l'uno, andiamo a vedere chi è l'uno. Sarà un premio anche velocità. Eh sì, perché alla fine è il primo che abbiamo inserito e anche il primo che ha vinto. Bello, sono contenta che ha vinto il più veloce. È proprio il premio rapidità. Allora, l'uno è Dixie Wonderland. Dixie, complimenti. Complimenti. Hai vinto la skin per l'iPod. Ciao a tutti, da Angela e Laura.